non puoi competere con i miei poteri mi hai salvato la vita cyborg, la vita di Batman sono colpito, dovremmo frequentarci di più certo Batman, sarebbe stupendo ho un tavolo da biliardo nella Batcaverna e... aspetta, il biliardo è un'idea stupenda giocare a biliardo con il ca... oh no, era solo un sogno oh no 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 no, ho dormito troppo arriverò tardi, arriverò tardi alla riunione uomo stupido cavo sei in ritardo cyborg ah, eh, ciao a tutti Vic, non hai tipo un orologio atomico tra i tuoi congini? chiedo scusa, ho fatto tardi lavorando su un progetto segreto ciao a tutti